Che cosa succede quando le cose vanno male? Cioè quando tutto questo degenera? Ora, vi ho detto all'inizio che abbiamo 31 milioni di persone sui social. Chiaramente quando eravamo 3 milioni, questi problemi non c'erano perché eravamo un'elite. C'era un'elite che andava online ed erano soprattutto quelli che lavoravano in enti di ricerca, che avevano a che fare con l'università, che erano ingegneri, insomma era una specie di creme. Nel momento in cui su online si riversa tutta la popolazione in maniera indistinta, diciamo dai 9 ai 99 anni, indifferentemente dal titolo di studio o dal lavoro che uno fa, beh, per me è inevitabile che online si ricreino un po' le stesse dinamiche che ci sono nella vita reale. E quindi quando è che viene fuori l'odio in rete? Beh, prima di tutto perché odiare purtroppo fa parte dell'essere umano. Cioè, pensate alla facilità con cui ci si manda a quel paese in un ingorgo o in altra situazione fastidiosa. Quanto diventiamo aggressivi in una coda se qualcuno tenta di fare il furbo? Magari, a prioristicamente, poi si scopre che la persona che voleva saltare la fila è una donna incinta, no? In cui eravamo noi forse anche troppo aggressivi. Cioè, l'aggressività fa parte di noi. E poi, purtroppo, quello che succede è che l'online non crea delle personalità nuove. Ricrea un po' gli aspetti che noi abbiamo nell'offline. E infine, certo che è più facile farlo in rete. Cioè, odiare dietro uno schermo è facilissimo. Non vedo in faccia il mio interlocutore. Mi sento al sicuro. In alcuni contesti lo posso addirittura fare dietro a un nickname, quindi dietro a un soprannome. Mi sento addirittura anonima. Poi, veramente, l'anonimato in rete non è così semplice, perché poi si può risalire all'IP, cioè all'indirizzo fisico della macchina da cui si è commesso crimine d'odio, mettiamola così. Insomma, non è così impossibile venire rintracciati. Solo quelli veramente esperti riescono ad essere davvero anonimi. Ma questo molti non lo sanno. Ci sono una serie di problemi cognitivi che sono alla base dell'odio. Allora, uno è il cosiddetto pregiudizio cognitivo. In inglese si chiama cognitive bias. Il pregiudizio cognitivo è quella cosa per cui tu entri in una discussione con un'idea già formata che non hai nessuna intenzione di cambiare. A torto o a ragione. Premesso che, quando uno inizia, premesso che qualcosa. No? Spesso succede questo. In rete, come del resto nella vita reale, non è che siamo sempre contenti di cambiare idea. Non è che entriamo nelle discussioni con l'idea di cambiare idea. Cioè, spesso noi vogliamo promulgare la nostra di idea. No? Quindi, questo è un esempio buffo. Perché succede spesso nelle interazioni della crusca che ci siano degli esempi di pregiudizio cognitivo. Al di là della polemica, a un certo punto, io, perché questo è da Twitter, quindi la crusca Twitter me, eh? Faccio notare a un utente che po' si scrive con l'apostrofo, non con l'accento perché aveva scritto po'. Interviene un terzo utente ricordandomi che si chiama apocope, non apostrofo. A poco, beh, è il fenomeno indicato dalla... Ma, al di là del fatto che è una conoscenza errata, un utente, diciamo, scarso ignudo, come si dice a Firenze, corregge la crusca. Cioè, il pregiudizio cognitivo è tale che questa persona non ha il dubbio di stare sbagliando lei. Pensa automaticamente che stia sbagliando la crusca. Ed è una situazione che in rete si ripresenta di continuo. Il Tg regionale delle Marche corregge l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sulla magnitudo del terremoto di luglio, perché inizialmente era girata l'informazione che era 7.1, che sarebbe stato catastrofe totale, perché la scala Richter sapete che è logaritmica. Quando l'ingv scrive che era 6.4, dopo un po' di tempo, perché loro devono fare dei controlli, delle triangolazioni, vengono corretti dal Tg regionale delle Marche. 7.1, non 6.4. Cioè, state correggendo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. E questi sono degli esempi, ma ce ne sarebbero a bizzeffe. Cioè, la gente non si chiede, ma forse sbaglio io. No? Ecco. Dopodiché c'è un altro problema, cioè le echo chamber, le camere di echo. Cioè, beh, fondamentalmente anche a causa degli algoritmi di Facebook, noi tendiamo a isolarci delle camere in cui tutti la pensano allo stesso modo. perché gli algoritmi fanno un'analisi semantica del contenuto dei messaggi, insomma, scelgono, guardano le parole che le persone usano e vi fanno vedere prima i messaggi in cui le persone sembrano usare le stesse parole che usate voi. Cioè, più o meno manifestano la stessa idea. Quindi c'è una specie di distorsione cognitiva online. Ho la sensazione che tutti la pensino come me. Questo è il fenomeno dell'echo chamber. Questo è un esempio. Notizia. Cacciatore ucciso dal suo stesso fucile e tragedia sui monti della Val Cinischia. Notizia tragica. Io sono abbastanza animalista, quindi non sono a favore della caccia, ma è comunque un essere umano che è morto. Vado su una bacheca di un'amica vegana, che i vegani sono un gruppo che fa molto echo chamber, e qui non voglio dare, non sto dando un giudizio sul veganismo, ma sul fatto che spesso si chiudono in dei gruppi in cui non vogliono far entrare persone con idee diverse. E ecco i messaggi che si trovano. Un coglione in meno. Questa stappa lo champagne. Vedete, ci sono tutte le icone. Non mi sembra proprio che tragedia sia la parola giusta. Meno uno, meglio lui, di un pelosino. Un pelosino, un animalino peloso. Oh, che dispiacere! Siamo a meno sette, ho sbaglio? Ecco qui, ti viene un po' la tentazione di intervenire e dire scusate. Ora, per quanto uno possa essere contrario alla caccia, è morta una persona. Ecco che tutti invece dicono la stessa cosa. Questo è proprio l'eco chamber vista in azione. L'altra cosa molto fastidiosa, Stefania ne sa qualcosa, è che nessuno ascolta quello che hanno detto gli altri, nessuno guarda quello che hanno scritto altri prima di te, quindi nessuno legge i commenti precedenti, e soprattutto tutti pensano di essere i primi a fare il commento sagace. Allora, non vi dico noi, come Crusca, quante volte ancora adesso ci scrivono voi che avete approvato Petaloso. Ora, spero che qui dentro tutti sappiate che la Crusca non ha approvato Petaloso e non l'ha inserito nei dizionari, anche solo perché la Crusca non fa dizionari dal 1923. Scoop! Una volta uno mi ha risposto, ma l'Ansa ha scritto di sì, ma io ti dico che non li faccio i dizionari, fai te. Non mi credevano. Confermate queste informazioni? Eh sì. Un'altra cosa è il benaltrismo. Ogni volta che qualcuno dice una cosa, per esempio io twitto una scheda su un problema di consulenza qualsiasi, quello che salta su e dice i problemi sono benaltri. Tanti problemi affliggono l'Italia, ma il più grave è sicuramente il benaltro. Questo è un esempio, no? C'è la notizia, il girotondo delle donne in piazza della Scala a Milano contro Donald Trump, eccetera, eccetera, c'è la marcia in questi giorni. Con tutti i problemi che Italia ha in questo momento, queste protestano contro Trump. Senza vergogna. No, quando a me mi dicono, una volta, un po' di tempo fa ero in diretta con la Lipperini a parlare di una cosa di lingua e una commenta in diretta, invece di stare a parlare di lingua andate a scavare, erano i giorni di Rigopiano. A parte che non si può andare a scavare così, lo sapete, che non ci si può neanche improvvisare soccorritori. Però che senso ha? Vi ricordate, è entrato nella storia, e i marò. C'è stato un momento in cui qualsiasi fosse il problema, si diceva, però i marò. C'era il problema dei marò. Prima erano le foibe. Eh? E l'altra cosa, l'altra cosa che un po' avveleda è la comunicazione. La tentazione di iniziare un commento già con la polarizzazione. Voi che? Voi che guardate Sanremo. No? E il concetto sotteso è io invece no. Io l'ho battezzato noi-voismo, che rende l'idea. No? Quindi noi versus voi. Che è una cosa che rende difficile la comunicazione. Perché automaticamente ci si sente o da una parte o dall'altra. Alcuni termini che sentirete usare, vabbè, flame. Flame vuol dire fiamma, letteralmente in inglese. Ed è la discussione che sfocia in rissa. E di solito è innescata da un flame bait, cioè da una esca, da una esca della flame o del flame. Ovviamente il genere è ballerino, come spesso succede per le parole inglesi. Un flame bait può essere infilarsi in un gruppo di vegani e dire a me la Fiorentina piace al sangue. No? Cioè è chiaro che io voglio lì... Sto facendo una cosa ben precisa, cioè sto facendo il troll. Il troll è quello che volontariamente disturba la comunicazione. Pensate che la Crusca ha tantissimi troll che pensano che gli accademici si sentano male davanti alle parolacce e quindi mandano messaggi infarciti di coprolalia, come si dice tecnicamente. Ovviamente noi abbiamo le spalle un po' più larghe di così, resistiamo dal 1583, quindi una parolaccia in più o in meno non ci fa questo grande effetto. E poi si parla tanto di hater. Questa è, non so se l'avete visto, la riconoscete, è la schermata dal profilo Facebook di Laura Boldrini in cui lei espone un florilegio di commenti che ha ricevuto su Facebook in cui il più gentile è «Ma mai nessuno l'ammazza sta terrorista?». Gli altri non ve li sto a dire perché sono molto peggio. Per esempio, una persona che poi nel seguito diventa protagonista delle cronache scrive «Boldrini, sei una puttana handicappata, vattene a casa». E poi continua. Ora, l'idea che il pubblico ha, molti hanno, è che ci siano degli odiatori professionisti, cioè dei professionisti dell'odio. Allora, la Repubblica ha fatto una cosa interessante. È andata a intervistare questa signora, di cui ha lasciato il nome in chiaro perché poi anche i giornali l'hanno messo in chiaro, che si chiama Gabriella Maria Feliziani. E l'intervista ha dato un esito interessante perché, lei dice, Repubblica chiede «Perché ha dato della poco di buono alla Presidente della Camera?» «Non lo so nemmeno io! Sarà stata la rabbia per come mi sento quando torno dal lavoro?» Ho 61 anni, eh! Però, vabbè, ero stanca dopo una giornata in campagna, ho visto qualcosa che mi ha fatto pensare alle ingiustizie, ma non ce l'ho con lei, manco la conosco di persona. Come faccio a giudicare? L'ho spiegato, è stata ignoranza!» E poi sotto «Da quanto tempo hai scritto a Facebook?» «La sera, quando finalmente riesco a sedermi, mio marito vuole guardare sempre i programmi di politica e allora io mi metto su Facebook». Cioè, questo è l'odiatore professionista? Voi capite che non c'è la professione dietro, ma c'è soprattutto incompetenza. Cioè, uso Facebook e non ho contezza del fatto che sto parlando in pubblico, anzi, che sto scrivendo in pubblico. Eco diceva, parlava tanto dello scemo di internet, no? Però, in realtà, il punto è che gli scemi c'erano anche prima, solo che li trovavamo al bar, al circolino sotto casa. Per chi andava a Londra, allo Speaker's Corner, a Hyde Park, sulla sua scatolina di cartone, adesso hanno un blog, adesso scrivono su Facebook. Adesso, invece di raggiungere 50 persone, ne raggiungono 5 milioni o 50. Questo è il vero problema. Senza avere l'idea di quello che stanno facendo. Cioè, questo signore, è chiaro che non è un'odiatrice professionista. Non ci ha pensato. Quindi, forse è lì che bisogna intervenire, no? Cioè, nel dare alle persone la contezza di quello che si sta facendo quando si fa online. Un mio collega che si occupa specificamente di questo è quello a cui ho rubato questa diapositiva, Bruno Mastroianni, se no, se non lo cito, poi mi mena. Sapete che in rete è facile appropriarsi delle cose altrui? Questa è citata, eh? Quindi c'è la fonte. Quindi, odiare dietro uno schermo ha tante motivazioni. La prima non mi vede nessuno. Non è reale. Quest'idea che il virtuale non è reale, quindi si può fare. Si possono fare delle cose diverse. Stavo scherzando. Quanti, dopo aver ricondiviso il video di Tiziana Cantone, che poi si è suicidata, hanno detto, vabbè, ma stavo scherzando. Lo condividevano tutti. Faceva ridere. Per poi mettere alla gogna. Per una cosa che peraltro non è illegale. Su cui non mi addentrerò. Ops ora cancello. Anche questa è l'idea che si possa cancellare così. Ma come diceva all'inizio, probabilmente qualcuno ha già ricondiviso, fatto lo screenshot. non è così semplice cancellare. In realtà l'unico modo per avere la certezza che le persone non leggano una cosa che non volete che leggano è di non metterla online. Perché sennò dice la regola del lo dico solo a te. Poi quello a cui l'avete detto lo dice solo a un'altra persona di cui si fida. E piano piano la notizia fa il giro. Questa è una citazione, si legge male ma ve la dico io, da uno degli ultimi eventi di cronaca. Sapete il marito la cui moglie è stata investita che si è fatto giustizia da solo. E questo è il procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale che parla e dice non mi parlate di internet perché sono assolutamente contrario a tutte queste forme di comunicazione. Vedo una gioventù malsana che non parla più e si affida a questi commenti spregiudicati. Sono forme di violenza anche quelle. Sono veramente stufo di queste comunicazioni in rete dove cova l'odio. Ma allora qual è la soluzione? Chiudiamo l'internet? Ovviamente no. Però occorre moltissimo lavorare su due fronti. Cioè, come ci si può difendere se siamo nella posizione di essere noi le vittime ma anche un'altra cosa che forse è più sottile e forse è più necessaria come facciamo a non diventare noi gli aguzzini? Allora, prima difendersi. Beh, intanto non offendersi facilmente. A noi arrivano delle cose inenarrabili, a me e a Stefania, anche personali. Un po' di tempo fa, avendo scoperto che io sono nata in Ungheria, uno mi ha scritto in privato tornatene nel tuo paese immigrata di merda. scusate il francesismo, però sto citando letteralmente. Che gli dici a un certo punto? A parte che io sono ungherese di nascita ma italiana sul passaporto. Quindi è come dire che Ungaretti era il più grande poeta dell'Egitto. Quindi capite che... Non che io sia la più grande, niente. Non lasciarsi andare agli istinti primordiali che abbiamo tutti. Soprattutto quando ci toccano su delle cose. Appena c'è un gattino, un bambino, i soldi dei parlamentari, noi smettiamo di pensare. Ricondividiamo così in preda all'ira. Invece soffermarsi un attimo sulle cose. Poi si può nascondere un post che ci dà particolarmente fastidio. C'è il comando nascondi, hide in inglese. Si può bloccare una persona che sta diventando molesta, il famoso block. In più si può segnalare un post. Cioè, se c'è un post che dice cose che non vi piacciono, ma perché non sono legali o sono sbagliate, eccetera, lo si può segnalare. Attenzione a non abusare di questo mezzo, perché purtroppo in certi ambienti la segnalazione diventa delazione. Cioè, segnalo tutto quello che non piace a me. Per esempio, Roberto Burioni, che è un noto medico che si batte per i vaccini, si è visto cancellare un post in cui raccontava dell'epidemia di morbillo in Romania. In cui non faceva disinformazione, cioè raccontava un fatto. Però è stato cancellato da Facebook a causa delle segnalazioni degli antivaccinisti, ovviamente. Senza entrare nella polemica, però, usare così uno strumento che sarebbe per segnalare cose illegali è già qualcosa su cui bisogna ragionare. Cioè, è uno strumento che viene spesso usato male. E infine, esiste anche la possibilità di denunciare. a me non è mai successo di arrivare fin lì. Però, alla polizia postale, la polizia postale che si occupa di queste cose e è vero che la giustizia è lenta e così via, però meglio di non fare nulla, sicuramente è. C'è una vecchia regola di internet che dice di non dare da mangiare al troll. Spesso la reazione migliore davanti a qualcuno che vi trolla, cioè vi provo così, è ignorarlo. Perché il silenzio è la cosa che lo offende di più. Non essere considerato. Cioè, tu sbraita pure e io passo oltre. Di solito poi si spegne da solo. Perché non trova appiglio, no? L'esca non ha portato i frutti desiderati. Ricordiamoci che nessuno nasce imparato. Neanche il nativo digitale. Cioè, il fatto di essere nativo non vuol dire essere alfabetizzato. Questa è una grande differenza che va tenuta in considerazione. Cioè, i ragazzi sanno usare benissimo certe cose, ma per esempio non hanno idea della portata di quello che fanno. Io mi ricordo ancora, diversi anni fa sono andata a fare lezione in una scuola media e i ragazzini, dopo una lezione che era sui pericoli dei social, così, una ragazzina viene da me e mi fa ma, ah, io spesso mando mie foto ai miei amici che in cambio mi danno i soldi per la merendina. Cioè, non capire, mie foto un po' discinte, chiaramente. Cioè, e siamo alle medie. Cioè, ma ti rendi conto della portata di quello che fai, che magari i tuoi amici possono ricondividere quella roba online? Non ci avevo mai pensato. Pensaci, no? Quindi io sono per l'educazione ai social, che detta così sembra anche un po' nazista, però non è vero. Cioè, i social sono uno strumento bello ma che va saputo usare. Ricordatevi la Ferrari. Per me sono una Ferrari anche ai social. Per una nuova ecologia della comunicazione. E proprio per questo io ho steso una serie di domande di autocontrollo, per così dire, che io spesso propongo ai miei studenti e che sono le seguenti. Intanto ragionare sul senso di quello che sto per scrivere. Perché voglio condividere questa cosa? Perché voglio scrivere questa cosa? Cosa me ne viene? Domanda numero uno. Quale soddisfazione o vantaggio ne trago? Cioè, che me ne viene di fare l'invettiva online? Di parlare male di una persona? Cioè, quale che sia. O anche di parlare dei cavoli miei? Cioè, di condividere delle cose di me? Se voi mi googlate, cioè, non che ve lo chieda, ma... Vedrete che di me si trova tantissimo in rete. Perché sono una persona, beh, ho un'anzianità in rete e quindi ci sono stratificazioni su stratificazioni. Ma ci sono delle informazioni che su di me non troverete. Per esempio, orientamento politico, orientamento religioso, orientamento sessuale. Perché? Perché quelle sono cose che ho deciso di non condividere. Cioè, si può stare online e condividere solo delle parti di sé. Anche in maniera molto esplicita. Però, per esempio, di politico di me non si può dire nulla. Cioè, non si evince. Poi i miei amici lo sanno. Però da quello che si vede online non si evince. Un'altra cosa che dico spesso ai miei studenti è ricordatevi che quando vi devono assumere, il curriculum lo guardano, ma poi guardano chi siete online. Cioè, il curriculum magari è bellissimo e poi avete, non lo so, il blog neonazista. Magari preferisco assumere qualcun altro. Cioè, non è indifferente quello che mettiamo online di noi. Poi, l'empatia. L'empatia è una cosa che spesso viene dimenticata. Perché viviamo in un'era in cui c'è molta enfasi sull'ego. Anche sul solipsismo. Esisto solo io. E quindi, qual è la conseguenza delle mie azioni online sugli altri? Cioè, se io dico questa cosa, se io ricondivido il video di Tiziana Cantone, lei come si sente? Se fossi dall'altra parte sarei felice del fatto che gli altri mi condividono, mi commentano. Quante volte condividiamo con leggerezza, non so, la foto di un bambino obeso perché fa ridere. Ma chissà come si sente quel bambino obeso. Cioè, quel bambino obeso ha un nome e un cognome. Magari scopre di essere diventato un meme. Cioè, immaginatevi che trauma. Quello che è divertente per me lo è davvero per tutti. credo che sia una domanda fondamentale. Quando si fanno le battute magari su un'etnia, una razza, eccetera, eccetera, eccetera. Un gruppo. E poi, se l'hanno fatto tutti, è davvero una giustificazione? Quello che dicevano quando si parlava del caso Cantone. Eh, ma l'hanno condiviso tutti. Ma tutti chi sono? Tutti è un insieme di io. Tutti è un insieme di singoli. Non è la massa. Attenzione anche all'idea del branco. Anche il branco è fatto di singoli. Quindi, se smembriamo il branco e lo riconduciamo alla loro singolarità, già ha un'altra valenza. Non è una cosa indistinta. Poi, se faccio un'affermazione, sono pronta a difendere fino in fondo quell'affermazione. Per esempio, ho consultato delle fonti, per quanto possibili primarie, per cui quello che dico io è davvero vero. Cioè, quando vengono a dirci voi che avete inserito Petaloso nel vocabolario, l'informazione corretta è a distanza di una Googlata. Perché in realtà su Google si vede subito. Oppure, tutti quelli che ci scrivono voi che avete approvato Presidenta. Presidenta è una falsità, è una bufala messa in giro dal giornale. Né Boldrini né Crusca hanno mai detto nulla per Presidenta. La Presidente, sì, Presidenta è un'invenzione dei giornali. È una delle bufale più difficili da eradicare. E tutti ci scrivono indignati, ma nessuno ha mai consultato una fonte. Basta Googlare, l'unica fonte che dice Presidenta è il giornale. Quindi, se mi accorgo di aver fatto, come si dice a Firenze, di aver cannato, cioè di aver sbagliato, sono pronta a dire che ho sbagliato? Perché quello è fondamentale. È il modo migliore per gestire la crisi. Cioè, cancellare l'errore, come fece Gasparri quando cancellò Chiesimo, vi ricordate il tweet con Chiesimo, è sempre una pessima pratica. Perché la gente ha già fotografato, ha già messo in circolazione quella cosa. Chiedere scusa. Scusate, ho sbagliato. Poteva farlo anche Saviano, quando ha fatto il famoso tweet col quale apostrofato. Invece di arrampicarsi sugli, insomma, di tentare il salvataggio dicendo vabbè, ma c'è una lunga tradizione di scrittori che usano qual'è con l'apostrofo. Ad esempio, Ardengo Soffici, che è un futurista. Per cosa erano conosciuti i futuristi? Per giocare con la lingua, hanno inventato un sacco di neologismi. La svaticanizzazione, per esempio, che era spostare il Vaticano da Roma. Usare gli scrittori come esempio di correttezza ortografica e grammaticale. Cioè, pensate a Joyce. Usate Joyce per insegnare la punteggiatura corretta. No? Non funziona molto bene. Scusate, ho sbagliato. Mi è scappato l'apostrofo. Fine. All'inizio dei tempi, quando avevamo 500 seguitori, come li chiamo io, sul profilo di Twitter della Crusca, mia figlia ha preso il mio iPad e ci ha giocato a Fruit Ninja. Per esempio, è un gioco in cui ci sono dei frutti che vengono lanciati per aria e col dito uno li deve tagliuzzare. E fin qui tutto bene. Il problema è che poi ha finito la partita e ha twittato il risultato come Crusca. E quindi è comparso questo tweet. Accademia della Crusca ha affettato 79 frutti. ovviamente qualcuno l'ha subito notato e ha iniziato un po' la polemica. Oh, ma insomma la Crusca che fa queste cose. E io ho scritto strane cose succedono quando un iPad finisce in mano una bambina. All'epoca aveva cinque anni e mezzo, mia figlia. Che fai? Ti arrabbi? Ovviamente la bambina crea quel contesto di piacevolezza, no? Quindi da grande scandalo si riduce a una cosina su cui si sorride. La persona che aveva notato la cosa risponde vi facevo più tipi da rasol, no? Che è tipo Scarabeo, quindi è un gioco con le parole. Fine della polemica. Basta ammettere a volte di aver sbagliato. Poi, sono stato chiaro e preciso? De Mauro lo diceva sempre, l'importanza della chiarezza e della precisione linguistica. Quindi le opinioni si esprimono con chiarezza. Se sto rispondendo ad altri mi sono sincerata di aver capito? Perché spesso succede anche quello, cioè nella foga di rispondere non leggo esattamente cosa è stato detto e quindi vengono fuori dei pastrocchi. Ho controllato di non essere ridondante, cioè di non essere la centottantesima persona che fa la stessa battuta. Tipo, notizia di Fulmine uccide due persone in un parco di Roma. Questa è una notizia vera di un qualche mese fa. Sotto 500 commenti è colpa della Raggi. E tutti che si sentono, come si dice a Firenze, ganzi ad aver fatto la battuta. Tutti, è colpa della Raggi, è colpa della Raggi, la Raggi non sta neanche a curarsi dai fulmini, bla bla. Tutti uguali. 500 commenti tutti uguali. Originali, esatto. Io mi sento di darvi un ultimo consiglio, che è un consiglio che non ho inventato io, ma viene dato da uno studioso di lingua dei nuovi media. L'ha detto una decina di anni fa. Lui si chiama David Crystal, con la Y, come lo champagne. ha scritto un sacco di libri sull'argomento e il suo consiglio è scrivi come se tua madre ti stesse leggendo. E visto quello che poi succede online, io continuo a pensare che questo consiglio non sia invecchiato male. Cioè, se ne può sempre tener conto. Grazie. 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 Grazie.